C'è un'immagine che rappresenta proprio tutto il fatto di tenere le mani di Martina, che non abbiamo mai lasciato da quando è nata fino all'ultimo momento. Scusate se tremo, eh? Grazie. Il ministro dell'istruzione, Marco Bussetti, ha consegnato alla famiglia di Martina il suo diploma nel corso di una solenne cerimonia. Natale Martina. Il pensiero di tutti andò alla minuta e fragile studentessa, che da due anni studiava con grande impegno in due scuole parallele, la vita ed il liceo. Martina non ce l'ha fatta. Quelle parole, un paio di giorni dopo, risuonarono come una fucilata secca. Per me è stato immediato la voglia e il desiderio di attivare subito quello che si poteva fare, anche se non era una cosa così normale, consueta. Anche perché io ho vissuto l'esperienza di Martina, tre anni fa di questi tempi. Solo che io ho avuto, per fortuna, ma so cosa significa. So cosa significa, perché l'ho vissuta nell'epoca di un ospedale, l'ho vissuta con un'esperienza diretta. C'è un'immagine che rappresenta, proprio tutto, il fatto di tenere le mani di Martina, che non abbiamo mai lasciato da quando è nata fino all'ultimo momento. Questo è un esempio di una persona che non molla, che tiene duro, che ha coraggio e che è intorno delle persone che la spingono e la spronano ad andare avanti. Questo diploma significa dare un senso al lavoro che lei ha fatto e ci teneva in modo particolare. Io ne ho tantissimi ricordi, perché comunque abbiamo passato cinque anni insieme. Quando venne a scuola e mi parlò del suo cagnolino che aveva appena preso, era entusiasta e quindi aveva la gioia negli occhi, nonostante quello che stesse passando. Martina è Martina, cioè non ci sono altre parole. È stata la persona più forte che ho mai conosciuto io. Ci siamo ritrovati tutte insieme, tutte noi compagne, sette compagne, appunto per sette materie, a discutere la dose di Sina. È stato molto importante per noi. Durante la discussione infatti c'era molta tensione dovuta appunto a una forte emozione, perché alla fine era praticamente un coronamento del lavoro che aveva fatto. Quindi è normale che mi manca anche sentirla, anche la voce, però rivedo i video, risento gli audio, rivedo le foto. Purtroppo è così, è la vita questa. Purtroppo ha toccato a lei. Purtroppo ha toccato a lei.